Senti, quanto vuoi per portarmi a Fiumicino? Magari scherzo questo. Tiro 10.000 lire. A parte il cortassame, dove vengo l'altra di più. Ma io a Fiumicino non te ci porto manco per 100.000. No, senti, facciamo niente. Facciamo niente, lazza mi perde. Ma battere a casa, ma ce l'hai la casa tu. Ma è capodanno, la vuoi capire? E battere. E battere a casa, dove devo vedere stiamo? E battere a casa, ma che stai la bella? Ma è piantata? E andiamo, come vado. E dai, è piantata. E questo non lo faccio. Ma lo vedi che è pianto questo? E basta, non lo faccio stasera. E andate, andate. E' stata bella che è, grazie a Dio. Grazie a tutti.